Il boom di prenotazioni che ha visto segnare il sold out nelle settimane più calde dell'estate e del mese di agosto non ha interessato soltanto gli hotel e le strutture ricettive. Anche gli ombrelloni delle spiagge pesaresi hanno registrato il tutto esaurito, come evidenzia la portavoce nazionale CNA Balneari, Sabina Cardinali. C'è stato sì, il tutto esaurito, la gente con questo caldo, specialmente tanta voglia di mare e tanta voglia di fresco. Ricordiamoci comunque che gli stabilimenti lavorano tutti con le misure Covid, questo significa un 25% in meno di postazioni, di posti, quindi anche se lavoriamo al completo comunque abbiamo il 25% di posti in meno del normale, perché per le misurazioni Covid dobbiamo tenere distanziamenti maggiori fra gli ombrelloni. Il ferragosto è stato abbastanza sottotono, nel senso le misure Covid comunque anche se non ci piacciono ci devono stare, perché prima di tutto viene la sicurezza, poi viene il divertimento. Quindi la maggior parte degli stabilimenti ha lavorato in questo modo e non ci siamo dati alla festa libera. Il trend ad inizio stagione relativo al turismo si è confermato anche nella seconda metà dell'estate e nei giorni clou di agosto. A raggiungere Pesaro sono stati per lo più gli italiani. Il turismo che avevamo prima, magari che poteva essere l'americano, anche in vista del roof, il giapponese, è tutto molto più difficile, è tutto molto più complicato. E le richieste di affitto degli ombrelloni da parte dei turisti ha superato le possibilità offerte dalla spiaggia? Assolutamente sì. Le spiagge di riferimento degli hotel solite, classiche, non bastano più. Ci vogliono altri posti, altre situazioni, per cui anche spiagge dove si lavorava meno, con il turista di passaggio dell'albergo, oggi lavorano molto. La speranza è che anche il colpo di coda della stagione e i primi giorni di settembre permettano di registrare un buon numero di presenze. La portavoce di CNA Balneari Cardinali ha voluto inoltre ricordare i diversi danneggiamenti registrati nelle spiagge pesaresi. Atti vandalici già denunciati nelle scorse giornate dai titolari degli stabilimenti, per i quali però si è in attesa di interventi volti a migliorare la situazione. Tutti gli anni abbiamo questi episodi di atti vandalici, ma questo è stato un anno particolarmente intenso. Abbiamo avuto sia io che diversi colleghi diversi atti vandalici, anche pesanti. Nonostante abbiamo quasi tutti gli imprenditori, abbiamo la vigilanza privata, i cosiddetti torchmen che girano, però sembra che quest'anno i ragazzini siano particolarmente scatenati, perché spesso si tratta di ragazzi ubriachi. Avevamo chiesto anche all'amministrazione comunale un intervento importante con un atto di un'ordinanza pubblica in cui si vietava il permanere in spiaggia negli orari notturni, almeno da mezzanotte alle 5 di mattina, ordinanza che non c'è stata, che non è stata fatta. E questo per noi è stato un atto, una mancanza grave dell'amministrazione. Grazie a tutti.